Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'editore La Terza ha ideato un evento che si svolgesse quasi in contemporanea in 10 scuole, seguendo il filo rosso l'Italia Unita a Scuola. A Torino il dibattito presso l'Istituto Avogadro era incentrato sul tema del lavoro. Abbiamo rivolto qualche domanda ad alcuni dei relatori. Che cosa vuol dire che il lavoro si è mercificato? Il mercato del lavoro è il punto d'incontro tra l'impresa e il lavoratore. Il lavoratore può fornire del lavoro, l'impresa può utilizzarlo o no. Se il lavoro è abbondante, cioè se ci sono tanti giovani ad esempio che si offrono per lavorare e le imprese non hanno molto bisogno di lavoro, il prezzo del lavoro scende come quello di qualsiasi altra merce. Se l'offerta di lavoro è scarsa e le imprese ne hanno molto bisogno, la merce vale un po' di più e il suo prezzo sale. Quali possono essere le conseguenze sulla storia d'Italia collegabili al funzionamento del lavoro di oggi? Io credo che oggi noi ci troviamo nel nostro paese in una situazione di estrema gravità. La ricchezza prodotta e disponibile è estremamente squilibrata. come l'Istat ha ricordato poco tempo fa il 10% della popolazione italiana dispone del 45% del reddito nazionale e in questo ambito i lavoratori in generale sia occupati che precari e nella categoria dei precari dobbiamo mettere in prima fila i giovani, hanno delle prospettive estremamente difficili che costituiscono direi il problema dei problemi del futuro della nostra società. La precarizzazione è stata paragonata a un cancro perché corrode le basi stesse dell'esistenza una vita collettiva e individuale. Una vita da precario è una vita esposta costantemente all'incertezza, è una vita nella quale non si può progettare e programmare se stessi. Perché è così comune lo spremere i lavoratori e poi buttarli via? Si pensava che rendendo le imprese libere dinanzi al lavoro, nel senso di poterne fare a meno, di poter licenziare i lavoratori in qualunque momento, questo producesse maggior occupazione. Non è stato affatto così. La libertà di licenziamento favorisce soltanto le imprese e in una certa misura nemmeno esse, perché i lavoratori che cambiano continuamente grazie al fatto che se il mercato tira l'impresa assume, se il mercato non tira l'impresa licenzia. Non si forma né l'attaccamento del lavoratore con l'impresa e con il proprio lavoro, né si sviluppa quella professionalità, quella conoscenza del mestiere, del posto, del materiale, delle tecnologie che è indispensabile per fare dei buoni lavoratori. Che tipo di reazioni, di accomodamento, di rifiuto sono immaginabili da parte dei lavoratori? Immaginare è un'impresa veramente troppo complicata. Si andrà verso una combinazione di una parte della società italiana che accetta supinamente e un'altra parte che invece reagisce e cerca nuove vie di sviluppo civile e anche economico-sociale. Il lavoro è una parte essenziale della persona, è una parte dell'identità, è una parte della sua storia, una parte dei suoi affetti, una parte dei suoi legami con il mondo e non dovrebbe essere ridotta soltanto a una merce che vale 3 euro l'ora se abbondante e 20 euro l'ora se invece scarsa. L'arretramento dei diritti dei lavoratori è sempre più forte. Il lavoratore oggi è posto sotto un ricatto anche violento da parte di un mondo del lavoro che può benissimo fare meno di ciascuno di noi perché moltissimi altri sono lì in fila che aspettano di sostituirlo e poi oltretutto c'è questa questione tragica della competizione con paesi come la Cina, come l'India dove i lavoratori non hanno diritti in realtà. La globalizzazione non è nient'altro che l'esplosione del mercato al di fuori dei confini degli stati nazionali e quindi la crescente difficoltà del potere politico di controllare, regolare, garantire che gli scambi di mercato avvengano in un quadro normativo. Grazie a tutti.